Buonasera, ben trovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano ancora l'emergenza coronavirus, ancora stabili i numeri del nuovo bollettino epidemiologico, preoccupa invece l'aumento dei posti occupati nelle terapie intensive nell'ultima settimana, il report di Roberto Maggi. 1.449 positivi su 10.880 test, 494 in provincia di Bari, 27 decessi, 10 di questi nel barese. Il numero dei nuovi casi registrati in Puglia continua a mantenersi costante e con esso il rapporto tamponi nuovi positivi. Le misure di contenimento stanno arginando un'ulteriore crescita del contagio, sebbene la curva si mantenga abbastanza stabile. Il timore di una terza ondata alle porte induce a guardare con attenzione alla tenuta del sistema ospedaliero. Il numero dei pazienti ospedalizzati continua ad attestarsi attorno ai 1.300 sugli stessi livelli toccati a metà novembre dopo il picco di 1.693 raggiunto il primo dicembre. Dati in calo che però vedono una risalita che procede da circa una settimana dei pazienti ricoverati in terapia intensiva tornati a oltre 160 dopo che erano calati a 128, ancora lontani per fortuna dai 227 toccati a inizio dicembre. Oggi e domani la Puglia in zona arancione per poi tornare gialla da lunedì. Vediamo quali le restrizioni ancora in vigore. Dopo la breve boccata d'aria della zona gialla rinforzata da questa mattina e per tutto il weekend anche la Puglia torna in zona arancione. Ristoranti e bar chiusi dunque, consentito il solo servizio d'asporto e domicilio. Resteranno chiusi anche i centri commerciali. I negozi al dettaglio invece in città saranno aperti. Questo permetterà ai clienti di poter approfittare dei saldi invernali che in Puglia hanno preso il via proprio due giorni fa. E questa mattina infatti a Bari, nonostante il maltempo, tanti cittadini che passeggiavano tra le vie dello shopping per la consueta caccia all'affare. Affluenza che però non si è registrata nelle prime 48 ore dall'inizio dei saldi. È negativo il primo bilancio stilato dalla Confesercenti Bari che dopo aver ascoltato un campione di oltre 100 attività del settore moda presenti nel comune di Bari e provincia ha rilevato un quadro generale drammatico. Come ritenevamo l'avvio non è dei migliori. Riteniamo che le cause possono essere state sicuramente determinate dal fatto che i saldi non sono coincisi con il fine settimana ma con dei giorni lavorativi. Sicuramente questo determina una scarsa affluenza di persone tra le strade. Sicuramente il tempo anche non è stato clemente ma la causa determinante, la più dannosa è stata sicuramente la situazione di pandemia in cui ci troviamo. Lo ricordiamo da lunedì prossimo la Puglia entrerà come tante altre regioni italiane nella zona gialla e quindi ci sarà la possibilità per i negozi, i pubblici esercizi, i ristoranti e le storie aperti. Ovviamente il nostro appello nei confronti dei consumatori non può essere che quello di sfruttare questa occasione, che è quella dei saldi che è importante per i commercianti che stanno vivendo un grande momento di difficoltà e che in questo mese in realtà fino alla fine di febbraio potranno trovare occasioni che difficilmente di altri anni trovavano perché in realtà c'è grande assortimento, le percentuali di sconto sono anche molto interessanti. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha convocato per lunedì mattina una riunione con regioni Anci e Upicon con all'ordine del giorno le misure per il nuovo DPCM che entrerà in vigore il 16 gennaio. All'incontro in programma le 10.30 parteciperà in videoconferenza anche il ministro della Salute Roberto Speranza. A Bari i docenti in protesta questa mattina davanti alla sede della regione Puglia deponiamo le armi e posano 100 libri. Gli insegnanti scendono in piazza dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'ordinanza pugliese che fissa la didattica digitale integrata come regola generale per le scuole ma con facoltà di richiesta della didattica in presenza un gruppo di docenti ha scelto di mettere in atto una protesta simbolica consegnare un libro ai piedi della regione Puglia come testimonianza dell'impossibilità di svolgere il proprio lavoro adeguatamente in sicurezza. La processione di insegnanti che si sono alternati nel corso dell'intera mattinata per evitare assembramenti ha visto la partecipazione di diverse fasce in relazione a problematiche di gestione molto diverse per esempio nella scuola primaria considerata l'età degli studenti o nella secondaria di primo grado. Diciamo no a questa modalità di didattica integrata ma se i dati ce lo consentono noi vogliamo essere in presenza come giusto che sia perché l'insegnamento nella scuola primaria è un insegnamento diretto fatto di esperienza soprattutto. La nostra protesta pacifica in questo caso è per far sentire la voce visto che si è parlato tanto di scuola dall'inizio di questa pandemia ma senza mai coinvolgere insegnanti per organizzare per sapere cosa fare quindi siamo un esercito di invisibili mentre non ci siamo fermati un solo momento e quello che vorremmo è che le decisioni venissero prese dalle istituzioni e non lasciate alle famiglie senza nulla togliere però non hanno il polso di quello che significa organizzare una scuola. Discorso a parte va fatto poi per le scuole dell'infanzia qui l'attività prosegue regolarmente sin da settembre la gestione di bambini molto piccoli espone maggiormente gli insegnanti al contatto compresa l'attività di refezione di fatto esponendo maggiormente gli insegnanti a rischio contagio. In tutte le ordinanze non si è fatto altro che presentare una variabile o meglio una costante fissa o c'è la scuola dell'infanzia sempre in presenza noi in realtà abbiamo sempre offerto un servizio a 360 gradi con un tempo scuola pieno anche con la refezione scolastica. E' un appello alla regione Puglia arriva anche dai sindacati della scuola che chiedono al governatore Emiliano di introdurre nell'immediato in ogni scuola dall'infanzia alla secondaria di secondo grado la figura dell'operatore sanitario covid scolastico di pianificare screening con tampone antigenico periodico al personale della scuola già dal prossimo 18 gennaio e di adottare integralmente anche in Puglia le disposizioni del prossimo DPCM senza alcun ulteriore provvedimento restrittivo regionale. In alternativa, spiegano i sindacati, non potremo aspettare oltre in mancanza di risposte credibili e in tempi brevi attiveremo tutte le iniziative di mobilitazione consentite dalla situazione che stiamo vivendo. Restiamo in tema, nelle scuole primarie pugliesi si è avuta una frequenza media del 49,6% in quelle medie del 28,8% e l'esito di un sondaggio effettuato dall'Associazione Nazionale Presidi della Puglia su un campione di 88 scuole del primo ciclo con riferimento al primo giorno dopo la riapertura a seguito della pausa natalizia e con l'entrata in vigore dell'ordinanza regionale che dispone la didattica digitale integrata per tutti consentendo di fare richiesta di frequentare in presenza elementari e medie. Non si tratta di un campione scientificamente valido dice il presidente AMP Puglia Roberto Romito ma riteniamo che i dati restituiscano comunque una indicazione circa il sentiment delle famiglie in relazione alla frequenza a scuola in questo momento di grave difficoltà. Cambiamo argomento, primi giorni di saldi abbiamo intervistato Enrico Fanelli il proprietario di Maison Operative uno dei negozi di abbigliamento punto di riferimento per i giovani baresi attenti alle tendenze moda. Sentiamo. Dopo la stretta natalizia avete riaperto e lo avete fatto partendo con i saldi invernali come sta andando in questi primi giorni? No, primi giorni comunque bene anche se comunque è una stagione che vendiamo vendiamo anche a saldo per questo discorso che comunque ci circonda oggi che è il Covid-19 e quindi alla fine siamo da ottobre da metà ottobre emozionando il cliente con oltre al prodotto che comunque abbiamo ma anche cocolandolo con una scontistica maggiore diciamo che il mese più tragico è stato novembre dove comunque non abbiamo potuto raccontare tanto di quello che comunque avevamo in store dal Black Friday in poi è partito abbastanza bene almeno da parte del nostro store Poi avete una clientela particolarmente attenta alle tendenze della moda anche durante l'emergenza coronavirus qual è stato l'approccio dei vostri clienti all'acquisto? Il cliente è sempre molto attento il nostro cliente molto attento a quello che comunque oggi il panorama moda detta ecco ho notato comunque una leggera tristezza nella seconda ondata ecco quindi da metà ottobre in poi il ragazzo non avendo vita sociale quindi ha trovato difficoltà anche nell'esprimere la voglia di indossare un capo del momento ecco tutto questo poi si è ritornato bene sia per loro ma anche per noi da fine novembre da questo start del Black Friday e poi dalla corsa al regalo natalizio che comunque ha coinvolto tutte le famiglie in primisi giovani, ragazzi E siamo allo sport, il calcio riprendiamo il campionato ancora più feroci dobbiamo battere la Turris abbiamo un margine di errore ridottissimo presenta così la sfida di domani al San Nicola con la Turris l'allenatore del Bari Gaetano Auteri sentiamo uno stralcio della conferenza stampa di questa mattina ma per fatti assolutamente normali legati al tempo adesso io dico che in questo momento stiamo dal punto di vista fisico molto bene perché abbiamo avuto continuità di lavoro e questo non può che portarci giovamento nella nostra espressione di gioco dobbiamo essere più continui dobbiamo essere martellanti ma non è che fino adesso siamo stati così o superficiali oppure abbiamo fatto delle cose alternando cose molto buone a cose meno buone adesso non c'è più tempo per commettere errori né di atteggiamento né di mentalità eccetera poi ho detto stiamo molto meglio anzi molto bene dal punto di vista fisico complessivamente come gruppo tutti e quindi si ricomincia e si ricomincia con l'obiettivo di sempre ancora più feroci ancora più determinati imporre gioco e io dico che abbiamo le armi e le qualità per recuperare questo distacco dalla Ternana è chiaro che loro hanno qualche errore se lo possono permettere noi no ma questo a volte può diventare anche un punto di forza Saranno i peluche donati dai piccoli tifosi bianco-rossi domani gli spettatori Bari Touris grazie alla iniziativa benefica promossa dalla scuola calcio intesa a Sport Club Bari la scuola calcio ufficiale della SSC Bari ce ne parla Maria Alessia Sforza Saranno i peluche a colorare la tribuna est del San Nicola in occasione della partita Bari Touris di domani spettatori speciali donati dai piccoli tifosi bianco-rossi nell'ambito della raccolta benefica nessuno è troppo piccolo per aiutare gli altri promossa dalla scuola calcio intesa Sport Club Bari la scuola calcio ufficiale della SSC Bari l'idea ce l'hanno fatta venire i bambini perché loro ci chiedevano sempre ma perché non ci portate allo stadio ma perché allo stadio non si può andare quindi noi abbiamo pensato di unire due idee diciamo il donare i peluche a delle a dei bambini probabilmente più bisognosi e che probabilmente a Natale il giorno della Befana non hanno ricevuto tanti regali quindi abbiamo richiesto ai nostri bambini della città ma anche della provincia perché tanti sono venuti dalla provincia e qualcuno addirittura ci sta spedendo dei pacchi della Germania abbiamo deciso di far assistere al posto dei nostri bambini i loro pupazzi alla partita quindi loro comunque avranno un punto di riferimento quindi probabilmente ognuno di loro cercherà in televisione di individuare i loro pupazzi e poi questi pupazzi cercheremo di donarli a qualcuno che ha più bisogno i piccoli tifosi potranno donare i loro peluche fino a domani mattina portandoli nei due punti di raccolta nella sede dell'intesa sport club in via Sulla 43 o della Clipper in via Orfeo Mazzitelli 43 possono farlo fino a domani mattina alle nove chiudendoli in una busta di plastica perché purtroppo il tempo non ci assiste diciamo e la possono tranquillamente appoggiare dall'altro lato del cancello delle nostre due strutture e noi siamo quasi in chiusura ma vediamo che tempo ci aspetta per questo fine settimana e per inizio della prossima lo facciamo con il nostro esperto il colonnello Vita Antonio Laricchia colonnello che tempo farà questo weekend e poi la prossima settimana cosa ci dobbiamo aspettare? Bene ma possiamo fare una bella premessa stiamo avendo un inverno incredibile come ne lo avevamo da diversi anni finalmente ci voleva tanta neve al centro d'Italia specialmente a ridosso degli invasi che si stanno ricaricando con tanta neve che è caduta e ne cadrà ancora infatti è aria ghiacciata artica proveniente dalle regioni polari che rimane praticamente su tutto il continente europeo discende fino alla Spagna e richiama dell'aria umida sciroccale a tratti con venti di Ribecio sulla nostra regione e questo quindi permette di affermare il tempo del cemento è perturbato coperto con nubi continue piogge abbastanza continue per la giornata anche di domenica e di lunedì e poi si riperà ancora a prezzi di Marlosa Ventura per qualche giorno i venti sono deboli qualche rinforzo da quadranti medionari vi dicevo tanta pioggia a volte piovigine ma si va in giro ben coperti di temperatura attorno agli 8 gradi sulle fasce costelle adriatiche nelle zone interne intorno ai 2-3 gradi le nevicate nelle regioni di confine oltre gli 800-900 metri sarà quindi un tempo perturbato praticamente invernale per diversi giorni per le schiarite e trovare un po' di sole dovremmo aspettare almeno il fine della settimana prossima avventura e per questa edizione del telegiornale serale è davvero tutto grazie per averci seguito a tutti un buono proseguimento di serata il meteo è offerto da Oropan bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di tre di meteo per domenica domenica che vedrà ancora maltempo al centro-sud per questa zona di bassa pressione che si muove lentamente sul Mediterraneo centrale in nord resta in margine anche se qualche annuvolamento arriverà anche lì controlliamo infatti la nuvolosità attesa sull'Italia come vedete un po' da nord a sud il cielo si presenterà nuvoloso anche se al nord si tratta principalmente di velature la nuvolosità più compatta interesserà al centro-sud e come precipitazioni sanno in effetti le regioni centro-meridionali quelle a vedere le piogge più diffuse più intense tranne l'estremo sud dove li avremo fenomeni meno diffusi qualche fiocco di neve riesce a raggiungere anche la pianura emiliana e l'entroterra Ligure quindi in definitiva giornata di maltempo al centro-sud anche se come vi dicevo nelle estreme regioni meridionali non mancheranno anche delle parziali schiarite il nord anche lui avrà delle belle aperture con qualche velatore di passaggio però anche con qualche fiocco di neve nell'entroterra Ligure e sulla pianura emiliana il grosso delle precipitazioni interesserà l'Italia centrale e il sud peninsulare con la neve sull'appennino ma per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi scaricate l'app gratuita di 3B Meteo il meteo è offerto da Oropan